Angela Filipponio è il nuovo vicepresidente della Fondazione Petruzzelli di Bari. Fumata nera invece sul nome del sovrintendente dopo quasi due ore di riunione a tarda sera. Punto rinviato al prossimo incontro, il pomeriggio del 7 febbraio. Ma era prevedibile per il neoconsiglio di amministrazione della Fondazione, tutti i volti nuovi, presieduto dal sindaco Emiliano e insediatosi dopo quasi due anni di commissariamento Fuortes. La vera patata bollente è il bilancio che mette a serio rischio anche la stagione in corso. I conti non tornano. All'appello mancano 1.600.000 euro dei privati usciti dal CDA, Camera di Commercio compresa, e i contributi di provincia e comune, ridotti ad appena 200.000 euro rispetto ai 610.000 della prima e ai 1.500 dell'amministrazione comunale. Tanti erano nel bilancio di previsione, somme su cui si confidava per il 2014. Toccherà al direttore amministrativo Vito Longo, che ha poteri di firma per l'ordinaria amministrazione, preparare una relazione economico-finanziaria pre-consuntiva al 31 dicembre scorso e preventiva del 2014. Il 7 si capirà se si dovrà tagliare. La priorità è evitare di spendere soldi che non ci sono. Abbiamo chiesto che il direttore amministrativo, temporaneamente incaricato delle funzioni del sovraintendente, ci indichi eventuali tagli immediati della stagione a venire e valuteremo ovviamente se chiedere al Governo di accedere a quella forma particolare di sostegno finanziario determinato dalla nuova legge. Ai soci il compito di esaminare i curricula finora inviati, ma i consiglieri si sono riservati di portare sul tavolo proposte proprie.